Alla ragà, siamo qua a Milano, in discoteca, solo con una motivazione, perché c'è il mio fruttaro ship e vediamo, quanti gol per riuscire a tirarmi? Uno te lo devo tirare? Fatti poi. Come quanti gol? Tre, tre, tre gol. Uno dei cinque, tra l'altro. Tre. Prova. Vabbè, tutt'anno, ha sembrato i picchiari su uno. E' il cemento. Vai. Vai! Vai, Doro! Arrabbi, carabbi! Vai, Doro! Vai, Doro! Vai, Doro! Let's go!